Ben trovati, mi chiamo Erika Girolimetti e sono una docente del liceo artistico di Fano, appartenente al liceo Nolfio Polloni. Perché scegliere di iscriversi al nostro liceo? Chi sceglie di iscriversi al nostro liceo artistico decide di coltivare la propria creatività, senza però rinunciare ad una solida preparazione culturale che avviene attraverso le materie liceali che caratterizzano il percorso di studi. Al liceo artistico a Polloni ci siamo dati tre parole chiave. La prima è pensiero. Cerchiamo di insegnarvi a pensare in modo critico, analizzando la realtà che è fatta di segni, forme e parole. E questo per sviluppare una dote molto utile nel mondo contemporaneo, la creatività, ovvero la capacità di trovare soluzioni personali e inusuali ai problemi posti. Infine la terza parola è progetto. Quasi mai una produzione artistica infatti è frutto di un'ispirazione estemporanea. Serve invece imparare a lavorare con metodo e dunque un progetto artistico si sviluppa attraverso una fase di ricerca iniziale che approda ad una fase inattiva in forma di schizzo e perviene infine ad una soluzione concreta creativa in base agli indirizzi di pertinenza. Perché parlo di indirizzi? Perché all'interno del nostro liceo artistico sono presenti cinque indirizzi o sezioni tra i quali sarete chiamati a scegliere a partire dalla terza e questi indirizzi sono l'indirizzo di arti figurative, architettura ambiente, scenografia e due indirizzi di design, ovvero design dell'arredamento e design dei metalli e dell'oreficeria. Qual è la specificità della nostra scuola? Circa metà del nostro orario è dedicato a attività laboratoriali e dunque dedicato all'arte. Imparerete a disegnare, ad esprimere le vostre idee secondo vari linguaggi artistici. A questo fine sono fondamentali nel bienio iniziale le tre materie formative di base che educheranno la vostra capacità di osservazione per elaborare un pensiero capace di guidare la vostra mano e queste discipline sono le discipline grafico-pittoriche, le discipline plastico-scultore e le discipline geometriche. Si tratta di tre materie trasversali ai cinque indirizzi attivi presso il nostro liceo artistico, dei quali farete esperienza di questi indirizzi in prima e in seconda con la formula del laboratorio orientativo che prevede un'ora a settimana. Poi a partire dalla terza dovrete compiere una scelta esclusiva e specializzarvi dunque in uno solo di questi indirizzi che vi ripeto, l'indirizzo di arte figurative, architettura e ambiente, scenografia, design dell'arredamento e design dei metalli e dell'oreficeria. E quali possibilità al termine del percorso di studi? I nostri studenti potranno compiere qualsiasi scelta, molti dei nostri diplomati decidono di proseguire nel solco della formazione artistica, iscrivendosi quindi ad accademi di belle arti, alla facoltà di architettura o ai vari istituti di design, mentre altri pur contenti del percorso svolto decidono di iscriversi alle facoltà tradizionali ed ecco che abbiamo studenti iscritti a lettere, a lingue e addirittura qualcuno che si è iscritto a chimica. E c'è un numero crescente di ragazzi che decide anche di proseguire i propri studi all'estero. Infine il nostro liceo offre anche il vantaggio di sviluppare delle capacità pratiche che sono spendibili nel mondo del lavoro e dunque sebbene ci auguriamo che tutti i nostri studenti vogliano e possano proseguire gli studi, potranno anche promuoversi per qualche attività lavorativa. Vi invitiamo a venirci a trovare i nostri Open Day e vi auguriamo una buona scelta. Benvenuti ragazzi, mi presento, sono Agnese Giacomoni e insegno lettere presso il liceo classico del Nolfi Apolloni di Fano. Dunque, che cosa dovrebbe spingervi ad iscrivervi al liceo classico? Innanzitutto la curiosità. Se siete curiosi di conoscere il passato e le civiltà che spiegano e fondano il mondo in cui viviamo, se per indole siete portati ad approfondire e a ricercare cosa si nasconde dietro l'apparenza delle cose, se avete una certa attitudine allo studio e volete acquisire un metodo di studio efficace che vi permetta di affrontare con tranquillità qualunque facoltà universitaria, questa è la scuola che fa per voi. Che cosa in particolare caratterizza il liceo classico? Questo indirizzo di studi offre a voi studenti una preziosa occasione di allenamento, non a caso il primo biennio tradizionalmente viene chiamato ginnasio, un termine che in greco, in greco antico, disegnava la palestra. Si tratta ovviamente di allenare la mente attraverso uno studio approfondito e sistematico del latino e del greco, le due principali materie di indirizzo del nostro liceo. Questo allenamento vi darà la possibilità di conoscere meglio le strutture linguistiche dell'italiano, le sfumature semantiche della vostra lingua madre, vi consentirà di padroneggiare con sicurezza il lessico e l'arte retorica. Attraverso la riflessione etimologica, pressoché quotidianale nelle nostre lezioni, scoprirete le radici delle parole e ciò renderà il vostro studio affascinante e davvero molto molto avvincente. Tradurre dal greco e dal latino significa anche sviluppare le capacità logico-intuitive che sono essenziali anche per uno studio proficuo delle materie scientifiche. Ma non è tutto. In particolare, nel corso del triennio che segue il ginnasio, il liceo classico vi darà la possibilità, attraverso la lettura anche in lingua originale delle opere dei più importanti autori, di conoscere la civiltà greco-latina, che ha lasciato al nostro tempo una preziosa eredità e che costituisce le fondamenta del mondo occidentale. Comprenderete come alcune tra le più importanti invenzioni della civiltà europea, il teatro, le arti, la medicina, la storiografia, la filosofia, la matematica, la geometria, la geografia, l'urbanistica, la politica, eccetera, ci sono state consegnate dai greci, i quali le hanno tramandate alla tradizione latina che, a sua volta, ne ha ampliato alcune sfere, ad esempio il diritto, l'architettura, l'ingegneria, eccetera. Pensate, il cristianesimo, il rinascimento, l'illuminismo e persino l'attuale rivoluzione digitale e scientifica non sarebbero pienamente comprensibili senza l'eredità e l'apporto della cultura classica e del pensiero antico. Ma frequentare il liceo classico non significa studiare solo il greco e il latino. Anche le discipline scientifiche hanno il loro peso e avrete persino la possibilità di seguire un corso potenziato di matematica e fisica. Inoltre, sono attivati tanti progetti a cui potrete accedere. Certificazioni linguistiche molto valide, il corso di cinese, il laboratorio teatrale e modulab, il concorso letterario alla parola innamorata, il premio letteraria, la rassegna e utopia, più saggi con i classici, eccetera. Mi preme tuttavia menzionare un progetto sperimentale che è attivo solo per i ragazzi del classico. A partire dal terzo anno avrete la possibilità di seguire un percorso di biologia con curvatura biomedica molto utile in vista di un orientamento futuro verso facoltà medico-sanitarie. Dulcis in fundo, ormai da un po' di anni in quinta liceo, durante l'ultimo anno di studi, si organizza uno straordinario viaggio in Grecia che vi darà l'opportunità, seguendo le tracce archeologiche, di toccare con mano molte delle cose che avrete studiato sui libri. Il liceo classico vi permetterà di affrontare con risultati profiqui qualsiasi facoltà ed è noto che i ragazzi usciti dal classico hanno la più bassa percentuale di abbandono dei percorsi universitari. Ma se anche vorrete entrare direttamente nel mondo del lavoro senza frequentare l'università, avrete con voi un prezioso bagaglio di conoscenze che vi consentirà di mettere a frutto le vostre competenze e i vostri talenti naturali. Questo percorso di studi vi regalerà un tesoro umano e culturale inestimabile, utile per affrontare con serenità sia gli studi futuri che il mondo del lavoro. Venite a trovarci ai nostri Open Day, buona scelta. Ragazze e ragazzi, ben trovati. Mi chiamo Letizia Costantini e insegno filosofia e scienze umane al liceo Anolfio Apolloni di Fano. Vi presenterò brevemente il liceo delle scienze umane per aiutarvi a capire se è la scuola adatta a voi. Con il liceo delle scienze umane avrete una formazione ampia e articolata. In aggiunta alle materie basi tipiche di qualsiasi liceo approfondirete infatti la psicologia, la pedagogia, l'antropologia e la sociologia. Quelle che ho appena elencato sono appunto le discipline caratterizzanti questo percorso liceale, le cosiddette scienze umane, materie che si concentrano sull'uomo e sulle sue caratteristiche più proprie. Nel dettaglio, la psicologia si occupa in particolare di studiare la mente e il comportamento dell'essere umano. La sociologia e l'antropologia studiano l'uomo all'interno delle società e delle culture. La pedagogia, infine, si interessa di tutto ciò che riguarda la formazione di un individuo fin dalla prima infanzia e del modo in cui si educa e si insegna. Quali caratteristiche dovreste possedere per essere adatti a frequentare il liceo delle scienze umane? A differenza di altre scuole superiori, questa tipologia di indirizzo prevede che chi lo sceglie abbia una propensione naturale a rapportarsi con gli altri individui, siano queste persone soggetti qualsiasi, bambini, persone anziane, persone affette da particolari disturbi o svantaggiate dal punto di vista sociale. Dunque è fondamentale avere una buona predisposizione di base alla relazione, una buona intelligenza emotiva che consente di comprendere le proprie emozioni e sentimenti e le emozioni e i sentimenti degli altri. Quindi, se ti senti particolarmente portato per lavorare a contatto con le persone, allora il liceo delle scienze umane potrebbe essere la scuola che fa per te. Il liceo delle scienze umane sviluppa infatti competenze relazionali e comunicative, spendibili sul lavoro in aree psicosociali, nel settore dell'educazione e dei servizi alla persona, con particolare attenzione per i più piccoli, della comunicazione e delle pubbliche relazioni. Quali sono i futuri sbocchi lavorativi che vengono offerti? Per chi non è intenzionato a proseguire gli studi, questo liceo offre una preparazione che rende possibile entrare in alcuni settori del mondo del lavoro, soprattutto nell'ambito di strutture educative e socioassistenziali. A quali facoltà universitarie è possibile iscriversi con il diploma in scienze umane? Dopo il liceo delle scienze umane potrai iscriverti a qualsiasi facoltà universitaria tu voglia, ma sarai naturalmente più preparato per intraprendere alcuni percorsi di studio, ad esempio le facoltà di scienze dell'educazione e scienze della formazione primaria, per diventare educatore insegnante, la facoltà di psicologia, per diventare psicologo, psicoterapeuta, responsabile delle risorse umane nelle aziende e nelle organizzazioni, criminologo, le facoltà di sociologia e antropologia, per lavorare in enti coinvolti nello sviluppo di politiche socio-culturali e nel settore della cooperazione internazionale, la facoltà di scienze della comunicazione, per poter operare in tutti i diversi articolati settori delle comunicazioni, infine le professioni sanitarie, ad esempio logopedia, terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Vi è quindi un ampio margine di scelta a seconda della tipologia di lavoro che sentirai più affine alla tua persona. La mia presentazione del liceo delle scienze umane termina qui. Mi auguro di essere stata sufficientemente chiara e di esservi stata di aiuto nel maturare la scelta importante che dovrete fare. In bocca al lupo a tutti, ragazzi e ragazzi, vi aspettiamo il liceo delle scienze umane, il liceo della persona. Salve, sono Katia Falchetti, docente di scienze umane e filosofia. Insegno presso il liceo economico sociale e sono qui per presentarvelo brevemente. Il liceo economico sociale è comunemente conosciuto con l'acronimo LES e si trova a Fano, attualmente, in via 12 settembre numero 3. Uno studente che vuole iscriversi a questo indirizzo dovrebbe essere intenzionato a completare gli studi a livello universitario. Infatti il liceo economico sociale, come ogni altro liceo, è preparatorio agli studi universitari. Cosa significa dunque sceglierlo rispetto ad altri indirizzi liceali? Beh, significa volersi aprire a comprendere il mondo attuale e a proiettarsi nello stesso tempo verso il futuro. Il liceo economico sociale è infatti anche definito liceo della contemporaneità e se noi osserviamo la nostra società contemporanea, possiamo notare problemi di attualità, sfide per il futuro, ad esempio quelle che riguardano le risorse energetiche e anche altre risorse disponibili, o l'ambiente o il lavoro. Ancora questioni riguardanti regole giuridiche della convivenza sociale e la loro complessa definizione. Vediamo l'importanza di mettere tutti in condizioni di perseguire il benessere individuale, ma nella responsabilità delle scelte. Ora, per analizzare in profondità aspetti di questo tipo, il LES offre un percorso di studi cui concorrono più materie, che dialogano tra di loro in un approccio interdisciplinare. Inoltre è necessario che gli studenti si pensino allo stesso tempo in una logica nazionale e internazionale, locale, europea e globale. Questo per orientarsi tra istituzioni politiche, cultura, società. E da dove vengono i contenuti e gli strumenti necessari alla comprensione di fenomeni economici, sociali e culturali che viviamo, fenomeni così complessi? Provengono da diverse discipline distintive dell'indirizzo, ovvero il diritto all'economia e le scienze umane, ma anche le lingue straniere. Provengono però anche da materie di cultura generali, che come in tutti i licei preparano gli studi universitari. Ad esempio, le scienze giuridiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche e anche di quelle statistiche metodologiche per l'analisi e l'interpretazione di fenomeni economici. Pensiamo ad esempio alla lettura di un grafico. Ma anche parlare più lingue moderne e aprirsi a certe tematiche in un'ottica internazionale, beh, è una competenza fondamentale in un mondo chiaramente globalizzato. Infine possiamo dire che l'approccio umanistico, dato dall'affiancamento delle scienze umane al diritto all'economia, rappresenta una volontà di porre sempre la persona con la sua natura al centro, non il denaro, non altri interessi, al centro dell'economia stessa. Nello specifico il LES è l'unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere. L'inglese è una lingua scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Le due materie di indirizzo, diritto economia, politica e scienze umane, si studiano per tre ore settimanali per tutta la durata del corso. Quando parliamo di scienze umane intendiamo una materia che al suo interno ha più discipline, la psicologia che si studia nel biennio, ma anche la sociologia, l'antropologia e in un'ultima la metodologia della ricerca. Ma coerentemente col carattere fortemente interdisciplinare dell'indirizzo, nel triennio c'è anche un'ora in più di matematica che con le scienze statistiche è orientata alla lettura, all'interpretazione e all'elaborazione dei dati. Negli anni la scuola ha inoltre impostato delle progettualità che favoriscono lo sviluppo particolarmente delle competenze di cittadinanza europea, ma anche competenze pratiche e relazionali. Ad esempio scambi culturali, come quelli realizzati con il Borges et Cennifer Ginnasium di Barche in Ungheria, oppure con il liceo francese Jean Massé di New York, ma anche soggiorni linguistici in Spagna, progetti PCTO di alternanza scuola-lavoro e anche di orientamento che favoriscono un approccio con la realtà associativa e territoriale locale del territorio. Primo fra tutti crescere nella cooperazione che il nostro liceo porta avanti da sei anni in collaborazione con la Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo e con la Banca di Credito Cooperativo di Fano. Gli studenti che si diplomano nell'ES hanno ampie possibilità di scelta universitaria e un'idea differenziata sulle possibilità professionali future. Le scelte più frequenti ricadono tuttavia sulla giurisprudenza, sulle scienze politiche anche internazionali, sull'economia, la psicologia o le facoltà socio-antropologiche, quelle della comunicazione, così come nelle professioni sanitarie e nelle lingue e culture straniere. Ciao a tutti, sono Enza Patti e insegno lettere al Liceo Linguistico Norfio Polloni. Perché scegliere il Liceo Linguistico? Perché consente di acquisire competenze comunicative in tre lingue straniere, inglese come prima lingua, mentre la seconda e la terza lingua possono essere scelte tra francese, spagnolo e tedesco. Ma perché è così importante studiare le lingue straniere? Innanzitutto perché lo studio delle lingue risponde ad un'esigenza innata nella natura umana, e cioè il bisogno di comunicare. Più lingue si conoscono, più elevate la capacità di relazionarsi e di aprirsi al dialogo con l'altro da sé. Inoltre, conoscere una lingua non significa soltanto memorizzare lessico e grammatica, attività già di per sé molto arricchente, ma significa anche venire a contatto con l'identità di un popolo, conoscerne il patrimonio storico-culturale. Vuol dire apprendere come vivono le persone di un altro paese, come pensano, quali sono le loro tradizioni e le loro usanze. Significa quindi scoprire la bellezza della diversità. Nel nostro mondo, costantemente interconnesso e sempre più globalizzato, il confronto tra culture diverse è fondamentale per capire quanto l'altro non sia in realtà così distante da noi, aiutandoci così a superare antichi stereotipi e infondati pregiudizi. Inoltre, studiare le lingue aumenta la creatività e la flessibilità mentale. Il plurilinguismo, infatti, dà accesso ad una considerevole quantità di informazioni e organizza il pensiero in modo nuovo, facendo percepire il mondo in maniera più varia e articolata e spalancando così nuovi orizzonti di senso. Più lingue si conosceranno e più culture si apprenderanno, più grande sarà l'opportunità di elaborare il pensiero e, a maggior ragione, il pensiero critico. Un'ultima ma non meno importante motivazione è che studiare le lingue è molto divertente e può dare grandi soddisfazioni, oltre ad allenare la memoria e a potenziare le capacità logiche. Per quanto riguarda il piano di studi del liceo linguistico, oltre alle ore dedicate alle materie comuni anche agli altri indirizzi liceali, durante il biegno si affronta lo studio della lingua inglese per quattro ore a settimana, mentre le altre due lingue, scelte tra francese, spagnolo e tedesco, vengono studiate per tre ore a settimana. Nei primi due anni ci si concentra sullo studio del lessico e della grammatica e su alcuni aspetti culturali e sociali dei paesi stranieri. Successivamente, a partire dal terzo anno, si introduce lo studio di opere letterarie e, accanto ad esse, di opere artistiche, musicali, cinematografiche, uno studio che renderà il percorso molto più appassionante e coinvolgente. Ciò che caratterizza il liceo linguistico è la compresenza dell'insegnante di cattedra con l'insegnante madrelingua per un'ora a settimana in tutte le lingue studiate, al fine di potenziare le abilità comunicative e di approfondire alcuni aspetti legati alle tradizioni e alle usanze del paese d'origine. Il nostro liceo offre corsi di preparazione all'esame di certificazione di tutte e quattro le lingue studiate. Le certificazioni sono attestati fondamentali per il riconoscimento del livello raggiunto nell'ambito del quadro europeo di riferimento e sono spendibili sia in ambito lavorativo che in ambito universitario. Nel triennio, gli studenti hanno la possibilità di svolgere soggiorni o gemellaggi all'estero. Tale esperienza di indiscusso valore culturale ha anche un'importante valenza formativa, in quanto gli studenti ospitati da famiglie del luogo potenziano non solo le loro competenze linguistiche ma anche le loro capacità relazionali, confrontandosi con stili di vita diversi e accrescendo così il loro senso di responsabilità. Il liceo linguistico Nolfi offre inoltre il percorso ESABAC che prevede il rilascio di un diploma a doppia valenza spendibile in Francia nell'università ma anche nel mondo del lavoro. L'indirizzo ESABAC consiste nel potenziare il francese attraverso lo studio della storia veicolato in lingua. Tra le iniziative del nostro liceo sono da evidenziare il progetto Narrar Teatrando che consiste nella messa in scena di uno spettacolo nelle quattro lingue straniere, The Art of Translation progetto di traduzione ed incontro con l'autore, i mini corsi di lingua tenuti dai nostri studenti per i giovani alunni delle medie. Al termine dei cinque anni di liceo gli studenti potranno scegliere tra i più sbagliati percorsi universitari sia di ambito umanistico che scientifico. Chi intende rimanere nell'ambito della specificità del percorso potrà indirizzarsi verso le facoltà di lingue e letterature straniere, di lingue aziendali, di mediazione linguistica, di relazioni internazionali. Dopo il diploma potrebbero d'altronde presentarsi anche sbocchi più immediati nel campo del lavoro sia nell'ambito del marketing che del turismo. In conclusione lo spirito che anima il liceo linguistico può essere sintetizzato in alcune parole chiave comunicazione, confronto, accoglienza, integrazione, multiculturalità, viaggio e scoperta. Buona scelta, vi aspettiamo! Qual è il profilo dell'aspirante studente del liceo scientifico Torelli di Fano? È quello di una studentessa o di uno studente fortemente motivati per uno studio sicuramente teorico ma non disgiunto anche da attività pratiche di tipo laboratoriali. Uno studio di discipline assolutamente eterogenee tra di loro, discipline che andranno affrontate in modo assiduo, costante. Si tratta di un alunno certamente fortemente dotato di una forte curiosità e di una propensione verso la conoscenza. Cosa significa frequentare un liceo scientifico? Significa affrontare un percorso non professionalizzante, non si esce da un liceo scientifico con un titolo di studio che ci metterà direttamente nel mondo del lavoro ma si sarà naturalmente proiettati verso il mondo dell'università. Si tratterà di acquisire quelle competenze, quelle abilità, quelle conoscenze necessarie, non ultimo quello spirito critico che saranno proprio utili ad affrontare il percorso di studi superiore successivo, appunto quello dell'università, ma soprattutto ad affrontare la realtà complessa che viviamo quotidianamente. Istituzionalmente la proposta di liceo scientifico, nel suo quadro normativo, si suddivide in due macroambiti che sono quelli del corso ordinario e delle scienze applicate. La sostanziale differenza tra i due corsi è data da questi elementi. Il primo, più tradizionale forse, fornisce, come dire, un quadro di materie, di discipline estremamente ampio, eterogeneo, a 360 gradi, discipline che spaziano dall'ambito più prettamente scientifico alle materie umanistiche, compreso lo studio della lingua e della letteratura latina. Il corso di scienze applicate è invece un corso più dichiaratamente impostato verso lo studio delle scienze, dell'informatica e dunque ecco c'è un'accentuazione della proposta delle materie scientifiche e in particolare della disciplina di informatica. Al di là di questo, la proposta del liceo scientifico Torelli prevede poi una serie di possibili potenziamenti che vanno dal corso Cambridge al potenziamento di fisica, al bilinguismo, al potenziamento di inglese, alla cosiddetta curvatura ambientale. Qual è il profilo in uscita dello studente del liceo scientifico Torelli? È quello di un studente capace di affrontare qualunque passo successivo nel mondo dell'università. I nostri dati ci fanno capire come le scelte prevalenti, una volta diplomati, i nostri allunni, si rivolgano verso le facoltà di carattere più prettamente scientifico, quali le varie ingegnerie, medicina e tutte le altre facoltà che appartengono in qualche modo a questo ambito. Svariate sono comunque anche le iscrizioni verso le facoltà di carattere giuridico economico e perché no anche quelle appartenenti all'ambito umanistico letterario. Questo perché il percorso di studi del liceo scientifico predispone l'alunno ad una eterogeneità culturale, alla visione di una cultura integrata, non settaria e non separata. Interessanti sono per noi particolarmente fonte di orgoglio, sono i risultati di eduscopio della Fondazione Agnelli che ha rilevato anche in questi ultimi anni, come il successo negli esami universitari dei nostri alunni, ci ponga, anzi li ponga, insomma ai primi posti nella provincia di Pesaro Urbino. Salve a tutti, sono Ettore Carloni, docente di Meccaniche e Macchine presso l'Istituto Archimede dell'indirizzo Apparate e Impianti Marittimi del Polo 3 Tecnico Professionale 3 di Fano. Perché scegliere l'indirizzo Apparate e Impianti Marittimi? Chi sceglie di iscriversi a questo indirizzo decide di compiere un investimento per il proprio futuro, per raggiungere una preparazione in termini di competenze e conoscenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro o per proseguire gli studi all'università o presso corsi paruniversitari. Possiamo risumere in tre concetti chiave la mission del nostro istituto. Primo, competenza tecnico-professionale. I nostri studenti acquisiscono competenze nell'ambito della progettazione, realizzazione e installazione di impianti e macchinari e componenti del settore nautico-impiantistico attraverso l'uso di moderni sistemi di progettazione CAD tridimensionale o di simulatori impiantistici, nonché attraverso l'uso dei più tradizionali laboratori, come laboratori di meccanica, di automazione, di elettrotecnica e di automazione. Secondo concetto, innovazione. La tecnologia, i materiali di lavorazione sono in continua evoluzione. I nostri studenti utilizzano le più moderne tecniche e tecnologie che troveranno poi nelle aziende della cantieristica, negli studi di progettazione o nelle altre aziende manufatturiere, come la stampa tridimensionale, che permette di realizzare, dopo averli progettati con sistemi CAD 3D, dei prototipi o dei componenti in scala reale o ridotta, come avviene ad esempio per i modelli degli scafi delle imbarcazioni. I simulatori di impianti poi, che abbiamo già citato in precedenza, sono in grado di creare tutti gli impianti con i relativi pannelli di controllo che sono presenti a bordo di una imbarcazione, dal sistema di propulsione alla centrale elettrica, dai sistemi usiliari alla plancia di comando con il radar, permettendo l'accensione, l'utilizzo e la regolazione di tutti quegli apparati che possiamo trovare o a bordo di un'imbarcazione oppure a bordo su un macchinaro più complesso. Terzo concetto, occupabilità. I nostri diplomati trovano un impiego già poco tempo dopo il diploma, qualcuno addirittura prima del diploma. Trovano lavoro nella nostra provincia, polo internazionale della cantieristica, come progettista, come responsabile di coordinamento o come supervisione della produzione. Alcuni vengono assunti da aziende, da grandi aziende del panorama italiano internazionale. Per chi ama a viaggiare poi, la Mantonare Navigazione S.P.A. ha già firmato con il nostro istituto un partenariato già di diversi anni, per cui ha già arrolato a bordo delle proprie navi dei nostri studenti come ufficiali di macchine. Non sono pochi poi i ragazzi che proseguono gli studi, iscrivendoci alla facoltà di ingegneria, ingegnere, ingegneria meccanica o navale, oppure per proseguire gli studi presso i corsi paro-universitari o presso gli ITS, gli istituti tecnici superiori. Nelle discipline di indirizzo gli studenti apprendono a progettare, dimensionare, realizzare i componenti e gli impianti che troviamo a bordo delle imbarcazioni, dallo scafo, di cui va calcolata la stabilità una volta che si è disegnata e progettata la forma, al sistema di propulsione con motori diesel, elettrici e con turbina a gas, oppure vari impianti come l'impianto del timone, l'impianto elettrico, l'impianto di condizionamento, di produzione dell'acqua dolce. Molte sono perciò le ore dedicate alla meccanica, alle discipline di elettrotecnica, di automazione ed elettronica o a scienze della navigazione. I ragazzi poi apprendono anche la logistica in un mondo in cui sempre più si è costretti a reperire all'estero prodotti, materiali, lavorati e semilavorati che vengono dall'estero in un flusso di prodotti e componenti in entrate e uscite dall'azienda che deve necessariamente essere regolato. Le scorte di magazzino, infatti, gli ordini e le spedizioni devono essere necessariamente integrate con le varie fasi del processo di produzione del prodotto. Molto importante è poi conoscere le norme del diritto internazionale che regolano i contratti di affitto, di trasporto, di locazione dei prodotti dell'imbarcazione e dei prodotti eventualmente trasformati. Diversi sono le ore di laboratorio durante le quali i ragazzi sono chiamati a mettere in pratica le conoscenze pratiche che hanno appreso durante le ore di teoria ed apprendere, oltre le citate tecnologie, anche le tecniche di saldatura, di automazione con gli impianti pneumatici, l'uso delle macchine utensili, le tecniche di realizzazione di parti di impianti elettrici o idraulici. Molteplici sono le opportunità che si offrono ai diplomati dell'indirizzo apparati e impianti marittimi. Fondamentalmente i ragazzi seguono due strade. Una parte di essi preferisce entrare subito nel mondo del lavoro e i nostri diplomati trovano un impiego già in brevissimo tempo dopo il diploma. Nei cantieri navali o nelle aziende che producono e installano impianti per la cantieristica navale. Spesso trovano lavoro con posizioni di rilievo, come responsabili della progettazione, della produzione o della supervisione della produzione. Ci sono poi colori che invece scegliono di proseguire gli studi, iscrivendosi all'università, spesso l'università di ingegneria, navale o meccanica, oppure scegliendo di iscriversi ai diversi corsi paruniversitari o presso gli ormai diffusi ITS, gli istituti tecnici superiori. Per quale motivo iscriversi al Polo 3 di Fano? Al Polo 3 di Fano, Grafica e Comunicazione, il nostro corso, verte nella professionalità di grafica, fotografia e video e gli studenti nel percorso scolastico sia nel biennio che nel triennio finale acquisiscono delle competenze professionali, come dicevo, nel campo della comunicazione a 360 gradi. Attraverso le attrezzature professionali, naturalmente nei laboratori Mac e nei laboratori di fotografia e video, dove abbiamo attrezzature professionali adatte sia per la televisione, per il cinema, per cortometraggi, per documentari di ogni genere, i ragazzi acquisiscono una professionalità che si sviluppa in competenza, in conoscenza e soprattutto nel saper fare. Il saper fare significa entrare nel mondo del lavoro oppure proseguire nel campo degli studi attraverso le accademie e qui nella provincia di Pesaro Urbino, abbiamo l'Accademia ad Urbino, abbiamo l'ISIA, un istituto superiore delle istruzioni artistiche dove si studia grafica a livello altamente professionale, fotografia e video e abbiamo anche il Dams di Bologna dove è una branca dell'Alma Mater, ossia l'Università di Lettere, dove ci si può specializzare nell'editoria, nella musica, nello spettacolo in genere, nel giornalismo e in altre arti affini. Le nostre parole chiave sono la tecnologia, come ho detto, ma soprattutto la creatività, ogni ragazzo attraverso l'estetica, attraverso la propria fantasia creerà un mondo nuovo nella comunicazione. Un mondo nuovo significa la ricerca di quel qualcosa che magari ancora non è stato trattato nella comunicazione, come uno scienziato magari di medicina o di biologia fa le sue scoperte, anche nella comunicazione abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di persone che in Italia o anche soprattutto all'estero, in Europa, negli Stati Uniti o in ogni altra parte del mondo, l'italiano è ricercatissimo per la sua creatività e quindi formiamo delle persone che attraverso la loro competenza vanno in altri stati europei o nelle altre parti del mondo a comunicare attraverso un qualche cosa che è l'italianità, è qualche cosa che è nostro e sicuramente è competente con tutte le altre nazioni del mondo. Le nostre materie si sviluppano dal terzo anno con una dose massiccia di 16 ore settimanali di pratica nei laboratori e questo la dice tutta nel fatto della preparazione tecnica e specializzata. Come dicevo prima, le attrezzature sono un fiorfiore del presente, di quello che poi i ragazzi utilizzeranno nell'attività professionale. Nella nostra scuola il percorso di studi si svolge dal lunedì fino al venerdì, il sabato è libero e hanno sei ore, i ragazzi iniziano le lezioni alle otto e si concludono alle 13.55 e naturalmente offriamo anche dei corsi pomeridiani di potenziamento. Altra cosa importante che non ho ancora detto è il PCTO, ossia i ragazzi nel mondo del lavoro fanno un'esperienza nel terzo, nel quarto e nel quinto anno per due o tre settimane ogni anno per entrare proprio nel mondo del lavoro, per toccare con mano quelle che saranno le loro professioni future. Un'altra cosa importante, abbiamo dei corsi Erasmus e i ragazzi vanno a spasso per l'Europa per fare nuove esperienze nelle attività professionali di cui studiano, nel nostro campo naturalmente nella grafica, nella fotografia e nel video. La nostra dirigente si è spesa molto per quanto riguarda le attrezzature, per quanto riguarda essere al passo con i tempi, con la professionalità. Una cosa importantissima a cui il nostro istituto tiene è preparare i ragazzi sia per il mondo del lavoro e sia per un'eventuale prosecuzione degli studi, come dicevo prima, presso le accademie o presso le università, ma soprattutto una preparazione che comunque ci dia la possibilità di dare un futuro ai nostri ragazzi. Salve a tutti, sono la professoressa Fattori e sono una docente del Polo 3 di Fano e sono qui a illustrare uno degli istituti del Polo 3 di Fano, l'Istituto Tecnico e Economico Battisti. Il nostro istituto è conosciuto, diciamo, più storicamente con il nome delle commerciali, le commerciali di Fano, diciamo, il Battisti. Il nostro istituto è organizzato su una settimana corta, che significa che le lezioni vanno dal lunedì al venerdì e inoltre è articolato su tre indirizzi. Il nostro istituto ha come obiettivo più importante e più ambizioso quello di poter far permettere ai nostri alunni di costruirsi un curriculum molto personalizzato e questo grazie ad alcune opportunità che il nostro istituto offre. Per meglio illustrare le opportunità appunto che possiamo dare come istituto tecnico e economico abbiamo scelto tre concetti caratterizzanti. Il primo è proprio le opportunità di scelta, il secondo è la concretezza del sapere e il terzo è lo sguardo verso il futuro. Dunque, le opportunità di scelta perché? Perché al tecnico economico Battisti i ragazzi quando si iscrivono non devono scegliere subito l'indirizzo ma soltanto la possibilità di frequentare attraverso una didattica digitale o una didattica tradizionale. Solo in terza potranno andare a scegliere uno dei tre indirizzi, amministrazione, finanza e marketing, l'indirizzo informatico oppure l'indirizzo turistico. Nel pomeriggio poi il nostro istituto organizza tantissimi corsi che possono frequentare i ragazzi e possono scegliere tra i corsi sportivi, i corsi che permettono per esempio di ottenere il patentino da bagnino oppure quelli di certificazione linguistica e anche di informatica e possono anche poter frequentare dei corsi che danno l'opportunità di fare degli approfondimenti nelle materie curricolari. La concretezza del sapere è un altro concetto importante del nostro istituto ed è quello che fa riferimento al tipo di discipline che vengono studiate nel nostro istituto. Le discipline più importanti diciamo che caratterizzano il nostro istituto sono economia politica, diritto, informatica, economia aziendale, l'informatica appunto, le lingue, le lingue strassiniere sono quattro, francese, spagnolo, tedesco, inglese. Tutte queste discipline sono discipline che sono il cuore pulsante della nostra società che permettono diciamo alla nostra vita di essere organizzata e di andare avanti e queste discipline vengono studiate nel nostro istituto sia in modo teorico ma anche in modo concreto nel modo diciamo che può essere poi finalizzato subito concretamente nel mondo del lavoro. L'ultimo concetto caratterizzante del nostro istituto è lo sguardo al futuro. Non lo sguardo al futuro perché il nostro istituto è storico, è cento anni che diciamo forma figure importanti del nostro tessuto sociale e queste figure però sono cambiate nel tempo e per aderire ai cambiamenti della società il nostro istituto si è evoluto nel tempo, ha cambiato i propri indirizzi e pur mantenendo però la propria identità. Quindi riesce a diplomare come ragionieri i nostri ragazzi pur specializzandoli in indirizzi nuovi come il marketing, come il turismo, come l'informatica attraverso anche dei nuovi strumenti come i tablet, la didattica digitale, come le lavagne digitali che abbiamo in tutte le aule, come per esempio mandandoli all'alternanza scuola lavoro nelle aziende all'estero. Ecco, tutti questi strumenti ci permettono di aderire al nostro territorio e alla nostra nuova società. Quindi attraverso tutto questo che ho appena elencato e tutte altre cose che il nostro istituto propone, tutti noi docenti e la dirigente dell'Istituto Tecnico Economico Battisti accompagnano i propri alunni verso il loro futuro di donne e uomini nella società umana. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Silvia Cecchini, docente di matematica. Benvenuti in questo spazio dedicato all'Istituto Professionale Servizi Commerciali Web Community dell'Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 Tecnico Professionale di Fano. In questo periodo storico, fortemente digitalizzato, il mondo del lavoro è sempre alla ricerca di nuove figure professionali che prima ovviamente non esistevano. Proprio per questo sono nati i nuovi servizi commerciali che investono fortemente sulla formazione dei professionisti del web, fornendo conoscenze e competenze di ultimissima generazione. Il diplomato nell'indirizzo Servizi Commerciali Web Community gestisce la comunicazione aziendale sui social network, quindi cura tutto quello che riguarda la presenza in rete del marchio aziendale. Un aspetto fondamentale di questo lavoro è quindi la comunicazione, ovvero l'importanza che assume il dialogo diretto con il pubblico a cui l'azienda vuole riferirsi. Il manager per la community, quindi, dovrà interagire direttamente con i follower attraverso i social, dando vita a delle vere e proprie community. Tutto questo è reso possibile dall'apprendimento di nuove tecnologie informatiche e di due lingue straniere. Il progetto formativo si può riassumere in generale in tre parole chiave, web marketing, social network e attività laboratoriali. Il web marketing è un concetto attualissimo, perché siamo tutti fortemente influenzati dai contenuti che troviamo tutti i giorni sul web. Di conseguenza, grazie al nostro corso, sarete in grado di gestire marchi, prodotti e servizi attraverso internet, con lo scopo di farsi conoscere, ma anche di generare profitto. I social media, invece, stanno riscrivendo il modo in cui le persone si connettono e comunicano tra di loro. Sappiamo benissimo che ogni social network ha una caratteristica particolare che lo rende unico per determinate azioni di marketing, per il raggiungimento poi di obiettivi specifici. Oggi i canali social costituiscono un indispensabile spazio virtuale per le aziende, che rappresentano un'ottima strategia per aumentare la visibilità, per raggiungere un vasto pubblico e allargare l'audience. Di conseguenza, si andrà ad amplificare la comunicazione attraverso gli strumenti di condivisione che sono disponibili sui social network. Inoltre, abbiamo tantissime attività laboratoriali, che sono attività concrete, che permettono allo studente di sperimentare operativamente. Quindi non si apprende solamente la parte più teorica, ma si cerca proprio di andare a mettere mano e di fare. Tutto questo avviene grazie ad un progetto formativo personalizzato. Questo significa che ogni alunno avrà la possibilità di avere un docente a disposizione, un docente tutor, a cui potrà rivolgersi per qualsiasi problema, per qualsiasi richiesta. Inoltre, sarà possibile inserirsi nel mondo aziendale già durante il percorso scolastico, attraverso il PCTO, conosciuto anche come alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda la specificità formativa della scuola, il percorso di studi è basato sull'aggiornamento, sull'innovazione, con l'obiettivo di raggiungere competenze digitali direttamente spendibili nel mondo del lavoro. L'offerta formativa si arricchisce anche con altri progetti, progetti come il learning by doing e l'educazione finanziaria, che sono stati fatti in collaborazione con Camera di Commercio e con Confindustria. Inoltre, questi progetti prevedono degli incontri con degli esperti del settore per ampliare gli orizzonti dello studente, per svilupparne lo spirito imprenditoriale. Così da approfondire anche lo studio delle TIC, ovvero le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Al termine del quinquennio, quindi, lo studente sarà in grado di curare e di promuovere la visibilità online delle aziende attraverso l'e-commerce e l'implementazione di siti web, collaborare alla realizzazione di campagne di web marketing e di sviluppare e gestire la presenza online di imprese e professionisti, oltre alla realizzazione dei processi amministrativi o contabili. Relativamente agli sbocchi professionali, invece, sarà possibile avviare collaborazioni con aziende, mettere in pratica attività di promozione delle vendite e dell'immagine del marchio aziendale, oltre ad avere la possibilità di iscriversi a studi post-diploma. Per quello che riguarda, invece, le facoltà universitarie, sarà possibile accedere a qualsiasi corso di laurea, in particolare gli indirizzi economici aziendali e di marketing. Fai questa scelta se vuoi diventare manager dei social. Salve, mi chiamo Michela Donini ed insegno lingua inglese presso l'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica dell'Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 Tecnico Professionale di Fano. Chi sceglie di iscriversi all'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica decide di investire sulla propria professionalità tecnica, senza però rinunciare ad una preparazione culturale trasversale. Abbiamo scelto tre parole per definire l'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica. Professionalità, occupabilità e versatilità. Professionalità perché i nostri studenti acquisiscono competenze e abilità nel settore tecnico-pratico spendibili nel mondo del lavoro. Mondo che richiede figure professionali sempre più preparate nel settore della manutenzione. Occupabilità perché quasi tutti gli studenti trovano lavoro nelle settimane immediatamente successive al conseguimento del diploma. Altri, tra i più brillanti e motivati, si trovano addirittura a poter scegliere tra diverse offerte lavorative. Versatilità perché le competenze acquisite dai nostri studenti permettono loro di inserirsi in diversi settori. Settore dell'impiantistica tecnica come elettricisti, idraulici o domotici. Nel settore dell'automazione, nel campo della produzione meccanica e meccatronica. e nel settore dei ricambi e della progettazione CAD. Per ciò che riguarda la specificità formativa della scuola, metà dell'orario scolastico è dedicato alle attività laboratoriali, in cui i ragazzi imparano ad eseguire inizialmente le lavorazioni propedeutiche che spaziano dalla saldatura all'installazione di impiantistica elettrica civile, dai processi produttivi basilari della metalmeccanica alla realizzazione ad esempio di schede elettroniche e tanto altro. Tutto ciò prevede anche l'uso sempre più corretto e puntuale degli strumenti di misurazione del settore meccanico, come micrometri, comparatori, come del settore elettrico-elettronico, quali tester, multimetri, oscilloscopi, e il tutto parallelamente all'utilizzo del PC e dei consueti applicativi. A tal fine sono fondamentali nel biennio iniziale le quattro materie formative di base, fisica, laboratori tecnologici ed esercitazioni, tecnologie informatiche e tecnologie tecniche di rappresentazione grafica. Oltre allo studio delle materie tecnico-professionalizzanti, l'indirizzo si caratterizza per un congruo numero di ore dedicate alle discipline dell'area comune, quindi lezioni vengono dedicate allo sviluppo di competenze inerenti all'uso corretto della lingua italiana, della lingua inglese, delle competenze matematiche, sociali, civiche, al fine di acquisire competenze trasversali che sono indispensabili per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la realizzazione personale. Al termine del percorso di studi sono molte le opportunità che si offrono ai nostri studenti. Alcuni scelgono di continuare con il segmento della formazione tecnica iscrivendosi ai corsi degli ITS o a facoltà universitarie di ingegneria, meccanica, informatica o elettronica, ad esempio. Non mancano coloro che invece scelgono altre facoltà da scienze motorie, scienze della comunicazione e quant'altro. Ma lo sbocco prevalente rimane comunque l'inserimento nel mondo del lavoro e solitamente le occupazioni sono al 100% affini al percorso di studi e questo risultato brillante è anche dovuto ai percorsi di PCTO che sono attentamente studiati dai docenti con le aziende del territorio. Un'ulteriore opportunità da considerare è la recente autorizzazione a partire dall'anno scolastico 2023-2024 di un nuovo percorso quadriennale dell'indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica unico nella regione Marche e consentirà di conseguire il diploma di Stato con un percorso di quattro anni anziché cinque permettendo quindi di anticipare di un anno l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria o al mondo del lavoro mantenendo invariate le finalità, le competenze e gli obiettivi raggiunti. Nell'offerta formativa sono presenti una serie di potenziamenti quali ad esempio la lingua straniera, anche tecnica inserita durante l'arco dei quattro anni attraverso l'insegnamento CLIL la collaborazione con le aziende attraverso un incremento delle ore di PCTO di circa il 30% ed infine la possibilità di scelta da parte dello studente di insegnamenti opzionali durante il biennio finale. Salve, sono la professoressa Elisabetta Giorgi e intervengo per conto del direttore del Polo Donorione di Fano Sono vicaria e vicepreside all'Istituto Tecnico Industriale un istituto che ha al suo interno due indirizzi di studio l'indirizzo informatico e l'indirizzo meccatronico sono attivabili anche due articolazioni, energia e telecomunicazione Ma quale è la motivazione per cui scegliere l'Istituto Tecnico Industriale? Ecco, per rispondere a questa domanda e descrivere la specificità del nostro istituto tecnico abbiamo scelto tre parole chiave novità, idea e soluzione Perché novità? I ragazzi e le ragazze che scelgono il nostro istituto amano la novità, intesa come innovazione tecnologica prediligono le discipline tecnico-scientifiche e amano creare, progettare, inventare soluzioni tecniche innovative in ambito informatico e meccatronico La seconda parola chiave attraverso la quale cerchiamo di illustrare la specificità del nostro istituto è idea Ci vogliono le idee, la fantasia, la creatività, l'originalità per attuare apparati d'avanguardia Pensiamo a progettazioni di robot intelligenti o spazi innovativi come l'industria 4.0 o droni micro capaci di entrare in spazi minimali Ed è la conoscenza fondamentale della matematica e della fisica assieme alle discipline tecniche come l'informatica il coding, la tecnologia, il disegno 3D, l'elettronica, la meccatronica, eccetera che permettono ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di dare forma e concretezza alle loro idee La terza parola chiave è soluzione Bene, i ragazzi che frequentano l'istituto tecnico industriale diventano dei progettisti ovvero professionisti in grado di dare continue soluzioni tecniche Questa è la loro natura non sono esecutori di un lavoro aziendale ma sono ideatori, progettisti sono capaci di dare soluzione e forma alle idee progettarle e realizzarle Il problem solving è alla base dello studio di questo istituto dall'analisi del problema alla progettazione e alla realizzazione del progetto Ecco, in particolare, lo ripetiamo gli ambiti su cui essi intervengono e amano proprio sentirsi chiamati in causa sono la meccatronica, l'automazione industriale l'informatica, l'hardware, la telefonia, la robotica Bene, passiamo ora alla specificità formativa della scuola Come abbiamo già anticipato due sono gli indirizzi l'indirizzo informatico e l'indirizzo meccatronico ma partiamo dall'indirizzo meccatronico in primis Il profilo professionale in uscita è quello del progettista con competenze in organizzazione aziendale I ragazzi imparano a progettare e realizzare parti di motori, parti e componenti di macchinari o parti di autoveicoli e le progettazioni sono sviluppate al computer con software dedicati per il disegno bidimensionale e tridimensionale quali per esempio Inventor giusto per fare una esemplificazione I ragazzi programmano anche con software di controllo elettronico da qui la dicitura dell'indirizzo meccatronico ovvero meccanica, elettronica e informatica assieme Ecco, nella disciplina di meccanica e meccatronica programmano infatti centri di lavoro automatizzati robot industriali e braccia robotiche La nuova frontiera proprio della meccanica e meccatronica è la robotica su cui il nostro istituto prepara i ragazzi Bene, ma passiamo al secondo indirizzo l'indirizzo informatico il profilo in uscita è quello del programmatore informatico i ragazzi imparano e approfondiscono tutti gli ambiti dell'informatica programmazione, sistemistica, hardware, lo studio delle tecnologie informatiche e pertanto diventano proprio dei veri e propri specialisti del settore pensate che il piano di studi ministeriale riserva non alcune ore alle discipline di informatica bensì 16 ore delle 32 settimanali e questo impianto consistente di 16 ore di studio delle discipline informatiche è riservato solo agli istituti tecnici di tipo industriale Ma cosa studiano i ragazzi e le ragazze? I linguaggi di programmazione come Java, JavaScript, C++, Python, PHP, SQL eccetera Progettono Android, progettono sistemi di elaborazione dati le reti di telecomunicazioni e i sistemi di sicurezza della rete producono software, realizzano siti, realizzano app per dispositivi mobili Ecco, gli indirizzi che abbiamo illustrato entrambi garantiscono una specifica formazione tecnica sulla base di una solida formazione umanistica, linguistica e anche culturale La scuola è accessibile a tutti e a tutti gli alunni del primo biegno vengono forniti gratuitamente libri e anche un tablet Per ultimo, apriamo, diciamo, il discorso alle prospettive post diploma È chiaro che chi frequenta il nostro istituto matura una valida preparazione culturale che lo apre al mondo diversitario ma nel contempo anche al mondo del lavoro in qualità di responsabile di area per il settore progettazione, produzione, controllo qualità, eccetera in virtù proprio di competenze in organizzazione aziendale che ha maturato durante il percorso quinquennale Al termine del percorso, quindi, qualunque scelta sarà possibile possono inserirsi nelle numerose aziende del territorio con le quali la scuola è da sempre in forte sinergia e continuo dialogo oppure possono proseguire gli studi presso tutte le facoltà universitarie Salve, sono l'ingegnere Davide Duranti, vicario dell'istituto professionale una delle due scuole del Polo Don Orione di Fano Due sono gli indirizzi di studio dell'istituto professionale l'indirizzo meccanico auto e l'indirizzo elettrico informatico Qual è la motivazione per la quale i ragazzi e le ragazze potrebbero frequentare e sceglierlo? Per rispondere a questa domanda abbiamo scelto tre parole chiave Passione, laboratorio, azienda Abbiamo scelto passione perché i ragazzi e le ragazze che scelgono il nostro istituto hanno un'attitudine ed una maestria operativa, pratica, manuale Accanto ad una forte passione per l'automotive, le moto, i veicoli automobilistici, le macchine da gara ho una passione per l'elettrotecnica, l'impiantistica e gli apparati informatici applicati al mondo dell'abitazione e dell'industria La seconda parola è laboratorio perché il cuore pulsante del percorso di studio è il laboratorio in cui i ragazzi imparano facendo Il laboratorio è impostato secondo la logica del lavoro e dell'azienda ed è il luogo in cui per metà del monte ore settimanale i ragazzi si professionalizzano facendo Anche l'approccio nelle discipline di base è impostato secondo la logica dei compiti di realtà in situazioni reali sia per il settore manutenzione, moto e veicoli a motore che per il settore dell'impiantistica elettrica Passiamo ora alla terza parola che è azienda perché i ragazzi vivono il forte gancio con la realtà aziendale Fin dal secondo anno sviluppano attività di alternanza scuola-lavoro La collaborazione continua con le aziende del territorio permette l'aggiornamento delle competenze professionali ed il rinnovo degli impianti e dei laboratori Infine, oltre il 90% dei diplomati trova immediata occupabilità Specificità formativa della scuola L'istituto professionale propone due indirizzi di istruzione e formazione professionale elettrico informatico e meccanico auto L'indirizzo elettrico informatico opera nell'installazione, nella verifica, nel collaudo e nella certificazione di impianti elettrici civili e industriali nella configurazione di software e impianti domotici e nell'automazione industriale Una particolare attenzione viene riservata agli apparecchi e impianti residenziali e industriali dove a largo spazio l'informatica applicata all'impiantistica L'indirizzo è completamente gratuito compresa la fornitura dei libri di testo le attrezzature di laboratorio i dispositivi di sicurezza come il camice e i guanti Passiamo ora al secondo indirizzo meccanico auto che è ideale per tutti i ragazzi che decidono di inserirsi nel mondo dell'automotive e nel mondo degli autotrasporti Lungo il percorso formativo gli allievi vedranno crescere le proprie abilità sia teoriche che pratiche svolgendo operazioni di messa a punto manutenzione e riparazione di auto e moto I laboratori sono estremamente attrezzati e offrono tutto il necessario I ragazzi dopo aver appreso le tecniche di assemblaggio e l'uso degli strumenti di misura e controllo approfondiscono il motore a due tempi il motore a quattro tempi benzina e diesel ed i motori di nuova generazione ibridi ed elettrici L'indirizzo è completamente gratuito compresa la fornitura dei libri di testo le attrezzature di laboratorio i dispositivi di sicurezza come la tuta e i guanti Prospettive post diploma al termine del percorso la maggior parte degli alunni si inserisce nel mondo del lavoro accompagnati ed inseriti dalla stessa scuola infatti all'interno delle scuole Don Orione c'è l'Agenzia per il lavoro accreditata presso la Regione Marche che orienta, accompagna e cerca lavoro ai nostri diplomati incrociando le richieste delle aziende tutto questo permette alle nostre scuole di avere un tasso di occupabilità dopo un anno dal diploma superiore al 90% si tratta di un servizio unico sul territorio perché offre un'occupazione garantita direttamente dalla scuola parte degli alunni invece proseguono gli studi iscrivendosi a percorsi post diploma a